Le guardie campestri di Corato festeggiano i primi 80 anni. La sua fondazione infatti del consorzio risale al 1936, un traguardo davvero storico a essere riusciti a restare sulla scena per tanti anni e dimostra così che il percorso intrapreso nel 1936 era già di per sé vincente. Francesco Rossi. Un traguardo sicuramente importante, storico. 80 anni di vita di questo consorzio che mette in sicurezza tutto l'agro di Corato. Noi quest'anno stiamo festeggiando come primo anno di amministrazione perché sono sei mesi che abbiamo in carica in consorzio. Io con tutti gli altri consiglieri abbiamo deciso di fare una festa perché gli 80 anni non è da poco arrivarci e noi grazie a chi ha fatto prima di noi ci siamo. Abbiamo intenzione di migliorare, di portare più gente e utenti con noi anche perché attualmente sono 5.607 utenti. Però cercheremo di aumentare ancora di più. Abbiamo già assunto due guardie comunque. Quanti siete? Attualmente ne siamo 16, più il direttore e l'impiegato. E le vostre attività sono concentrate essenzialmente sul Corato? Sì, il Corato. Il territorio è quello, è vasto ma molto grande comunque. Si rispetta ancora, abbastanza ampi. Abbiamo anche quasi 400 radioallarmi, abbiamo anche 6 macchine efficienti. Stiamo lavorando. Indubbiamente il ruolo delle guardie campestri è sempre più delicato perché compiti si aggiungono quotidianamente. Sì, adesso la delinquenza non è più, stavamo parlando poco prima, non è più la delinquenza di una volta. Prima la delinquenza era ladro di fioroni, di mandole, un po' più guerrita. Sai benissimo la disoccupazione che c'è. Quindi una situazione anche di emergenza da tenere sotto controllo. Sì, è aumentata ancora di più la guardie campestri. Grazie. 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 Grazie.